Isola dei famosi 2018 La grande macchina dell'isola dei famosi 2018 si è già messa in moto e ormai è tutto pronto per la tredicesima edizione di questo reality tanto atteso e amato dal pubblico televisivo. Il gioco partirà ad inizio anno 2018 e ci sono anche i nomi dei concorrenti. Isola dei famosi la prima puntata luned, 18 gennaio annunciata la data di inizio dell'isola 2018, la prima puntata sarà luned, 18 gennaio in prima serata su canale 5 in diretta con l'Honduras e con le case degli italiani. Alla conduzione come ogni anno la bravissima Alessia Marcuzzi, che dovrà tenere a bada i nuovi naufraghi, ma chi saranno i concorrenti di questo nuovo anno? Anche se i nomi di alcuni circolano in rete ormai da settimane e il cast non è ancora al completo, alcuni personaggi sono stati confermati. Si tratta di, Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Alessia Mancini, Elettra Lamborbini, la fashion blogger Chiara Nasti, Marco Ferri, la cantante Bianca Azzai e Corrado Mancini. Oltre a questi nomi ormai certi ci potrebbero essere anche due ex concorrenti del grande fratello di 2017, Raffaello Tonone e Luca Onestini, anche se solo Tonone sembra probabile, altri possibili naufraghi potrebbero essere, Cecilia Caprotti, Paola Di Benedetto e Alessia Mancini. In studio Alessia Marcuzzi con Mara Veniere le novità 2018, in studio a spalleggiare Alessia Marcuzzi con la sua incontenibile esuberanza e simpatia ci sarà a Mara Veniere. Secondo alcune discrezioni di 10 e la sigilliera di un'ansia, le voce solamente una di loro avrà questa incredibile popolità. Grazie a tutti.